Fabio Coppola è un giocatore italiano che sceglie qualche annetto fa di andarsene a Las Vegas per giocare o proprio per scappare dall'Italia? La scelta è venuta, ero in vacanza, ho trovato il paese dei balocchi e non sono più tornato, poi il poker si è evoluto e sono rimasto qua. Forse probabilmente tornerò in Italia per alcuni periodi quest'anno, per la prima volta proprio per il poker. Il poker mi ha portato in America e mi riporterai in Italia. Questo è molto interessante perché proprio con l'apertura delle poker room.it in Italia che già da un po' hanno preso corpo, qualcuna realisticamente ti ha addocchiato. Il nome di Full Tilt non è assolutamente un mistero, anche se obiettivamente ce ne sono altri, perché tu poi sei un giocatore professionista di cash, quindi hai una base tecnica solidissima. Sì, sono ormai 4 anni e mezzo, 5 anni che questa è la mia professione, mi piace, mi ci trovo bene, nella vita uno fa quello in cui riesce, è una cosa in cui riesco e probabilmente sto trattando con un paio di poker room italiane. Sono contento del fatto che l'Italia per la prima volta, è un complimento che faccio all'Italia, di solito arrivano 20 anni dopo nelle cose, invece hanno legalizzato il poker, che è una cosa online chiaramente, che è una cosa che darà tantissimo spazio ai giocatori italiani, vengono qui alle Orsiris tutti gli anni, ne conosco tantissimi, e devo dire una cosa, già da due o tre anni a questa parte sono migliorati tantissimo. Gli italiani, un popolo di furbi, secondo me nel poker arriveranno lontanissimo. Considerata la percentuale minima dei giocatori italiani che partecipano ai tornei alle Orsiris, abbiamo sempre, quest'anno abbiamo un altro giocatore del full tilt, al final table, a Zumbini, che l'ho conosciuto, simpaticissimo, bravissimo, e quindi io penso che gli italiani possono dire la loro, la loro nel poker, soprattutto detto dal fatto che diventa una professione in Italia perché è legale. Allora, io penso che sentendoti qualche ragazzo dice, ma io sono in Italia, qui ormai il posto sicuro non esiste più, chissà quando andremo in pensione, se ci andremo, con che contributi, gli viene voglia di fare il professionista, premesso che non è una professione per tutti. Quali sono le prime dritte che puoi dare a un ragazzo di 20 anni che sta seguendo il nostro sito? Il primo consiglio è che bisogna giocare con metodologia e una cosa molto importante è sapersi gestire a livello finanziario. La gestione della bankroll, se si hanno dei soldi e si decide di mettersi a lavorare nel poker, va considerato come un business. Se un italiano decide di investire 20.000 euro che ha avuto dal nonno o dalla nonna o che ha messo da parte risparmiando in un negozio di scarpe o le vuole investire nel poker, è esattamente la stessa cosa. Chiaramente non compra 20.000 euro di scarpe e poi spera di venderle tutte, compra 2.000 euro di scarpe, piano piano le vende e continua il suo business. E così nel poker. Bisogna andare per gradi, non si può giocare subito al top livello, al massimo livello. Bisogna cominciare con il sito da 5 euro, poi piano piano si arriva a giocare solamente a quelli da 100 euro. So che in Italia c'è una possibilità che apriranno il cash online e diciamo che quello sarebbe la ciliegina sulla torta, perché un giocatore professionista di poker non può vivere di tornei. Questa è una questione matematica. Quindi quando l'Italia si renderà conto, non so chi è l'organo, che giocare al cash è molto meno, come si dice, gambling in italiano? Una sorta di aleatorio, d'azzardo. D'azzardo, ecco esatto. È molto meno giocare d'azzardo al cash che giocare al torneo, perché al torneo è vero anche che sai quello che spendi, però nel momento che tu fai il buy-in perdi solo quella cifra, ma non puoi alzarti quando tu hai quadruplicato le tue cifre. Devi continuare a stare seduto finché non ti dicono se sei entrato nel ITM, come dicono? In the money. In the money. E quindi il gioco cash fa il giocatore di poker. Poi il torneo lo amplifica. Infatti, secondo me, i giocatori italiani sono migliori da tantissimo perché giocano solamente tornei, giocando tantissimi siti in go, tantissimi tornei online. Però poi magari nel cash sono un po', diciamo ancora, non scarsi, sono alle prime armi perché non hanno la possibilità di farlo. Se daranno la possibilità di giocare il cash in Italia online, io penso che come piattaforme di questi siti come Full Tilt, Stars o Gioco Digitale o così, faranno un business molto più grande. C'è spazio per molti, molti più giocatori e farà solo del bene al poker. Questo è Fabio Coppola, è un ottimo giocatore, l'abbiamo visto anche l'anno scorso arrivare a un tavolo finale e regalare tante emozioni. Secondo me, presto sponsorizzato. Da chi? Lasciamolo decidere a lui, a una grande azienda, ma saremo forse i primi a comunicarlo. Grazie.